Mi chiamo Giuliani Maria Stella e sono una mamma artista di 32 anni. La mia passione per l'arte è iniziata quando sono nata, ma l'ho sempre praticata da autodidatta in quanto non ho mai frequentato una scuola con indirizzo artistico. Da circa quattro anni ho intrapreso un percorso formativo con il maestro Giulio Pettinato, con il quale sperimento diversi settori dell'arte, tra cui la scultura, la pittura, la scenografia e la pittura sul corpo. Tutte le mie opere sono totalmente autobiografiche e raccontano i miei stati d'animo e le mie emozioni. Mi piace sperimentare stili e tecniche differenti e tutti i materiali e i colori che io utilizzo sono volti a rendere più incisivo il messaggio che voglio lanciare. A luglio parteciperò ad una bellissima manifestazione organizzata dal comune di Parghelia volta a sensibilizzare le persone alla salvaguardia degli animali e dell'ambiente e per l'occasione ho scelto di presentare delle mie opere realizzate su del legno di recupero, proprio per sottolineare l'importanza del reciclo. Sono felicissima perché esporrò con tantissimi artisti internazionali affermati. Conciliare famiglia, lavoro e una passione che da meno di un anno sta diventando un vero e proprio impegno lavorativo è molto difficile ma le soddisfazioni che ne ricevo sono impagabili e spero di rappresentare un piccolo esempio per tutte le mamme, lavoratrici e donne che accantonano i propri desideri e i propri obiettivi per la famiglia perché non c'è niente di più significativo ed importante per i figli che avere un genitore realizzato e soddisfatto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!